Dunque ragazzi, finalmente, 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 finalmente dopo una settimana di attesa, di voglia di giocarlo e non si poteva giocare perché finalmente l'hanno messo come vedete attivo a tutti quanti, quindi chiunque voglia giocare a Valorant potete farlo, se non avete avuto fortuna tempo fa a prendere la beta, tranquilli che la beta non serve più a niente. Hanno cambiato tutto ragazzi, cioè a partire dalla home, che se vi ricordate prima le grafiche erano tutte quante statiche, erano ferme, immobili, ma era normale, era una beta. Comunque hanno messo lei, ok? Che già solo a vederla è una gran figa perché ha i capelli quasi del mio stesso colore, quindi non può non essere bella e non può non essere mia. Ora non so che abilità abbia e non me le sono neanche spoilerata perché sono delle cose che, come sapete, a me piace scoprirle comunque insieme a voi. Quindi, in teoria, non la posso neanche reclutare perché mi sa che devo fare un game almeno e il fatto che debba fare un game con cui c'è più disponibili mi dà un po' fastidio. Questa è una roba seria ragazzi. Hanno aggiunto un nuovo pack di skin e hanno messo un sacco di skin singolari bellissime. Ora voi ditemi no? Come fa una persona amante del rosso, nero e bianco a non prendere una skin del genere? Cioè, come fossi a non prenderla? Poi hanno messo il pack Prime. Si chiama Prime ma non è di Amazon Prime, tranquilli. Questo qua, ragazzi, è bellissimo. Allora, fa il fatto che ci sta un'ascia a posto del coltello e vabbè, l'idea non mi aggrada però ci potrebbe anche stare. Però il vandale è bellissimo, ragazzi. Allora, quindi hanno aggiunto un nuovo operatore, nuovissime skin e in teoria voi mi state dicendo che hanno messo anche il Battle Pass. Allora, questi sono i semplici sticker che non ci interessano. Queste sono le cosine. Bella sta skin, molto figa. Molto bella, molto bella. Anche se la Stinger non è un'arma che si usa tantissimo, però a volte si usa. Bella anche la Frenzy, che è uguale alla Stinger. Ah, ok, quindi il Battle Pass è tutto incentrato su questo tipo di skin. C'è questa skin bianca, nera, con le strisce bianche. Oh, Chris, oddio. Odin.exe. Cioè, mi trollano pure. Ghost.exe, veramente figa. Judge.exe. Madonna mia. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Questo è l'unico che non mi piace. Beh, perché non mi piace proprio il formato del coltello, lo sapete. Carina. Ah, ok, finito col coltello. Livello 50. Quindi, il livello massimo è il livello 50. Il coltello è l'unica cosa che non mi aggrada. Però ragazzi, il vandalo, oh mio Dio. Beh, che dire, Serpine e Serpentina. Andiamo a prendere il Battle Pass. Senza neanche pensarci quattro volte. Senza neanche pensarci quattro volte. Non hanno idea di quanto io sia spietata. Ma l'ha detto in un modo che mi ha cringiato la vita. Forse ho fatto una c***a, non lo so. Dai, Barche, vieni, dai. Oh! Dai, un solo nemico. Ah, proprio da là, proprio. Cioè... Ah, ho capito. Tutti morti. Eh... Vabbè, 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 tutti, tutti, tutti qua. Ma ho l'acchio. Sono qua. L'ho preso, non è morto, complimenti, certo? È la tua fine. Anche un solo nemico adesso. È la ha hitata, a jet? Qua ti trovo partito. Ma l'avevo flashata. Non pensavo che si vedeva essere tre fatti. Pusciano. E giocatrice. C'è la bomba, c'è la bomba. Vai, da voi l'ultimo. Sono triste. Rivelo l'area. Sta qua, questa. Ma è perché sta guardando l'appa, non c'è la bomba. Non c'è la bomba. Oh, ma... Barca, barca, facciamo anti-frager. Vada di ulti. Flasha. Sei fuori. Dovevo curare. Quella vacciazza! Ti riuscivi tu o ti per curare? I am the bad day. Chi pusha con me? Barca, pusha con me. Dai, Barca, vieni. Sono davanti-frager. Sto salire, aspetta. Visi, non so. Guarda tu che... Wow! Aspetta un attimo, devo aggiustare il scherzo. Non devi andare attraverso un muro, capito? Perché con un muro si spezza. Ma questo, raga... Usciamo? Eccole. Ti senti? Può pushare o no? Ti senti? È pieno, Barca, è pieno di gente. Blocco visione. Stai giù, vedo la spike. Nemico avvistato. Da me? Boat there, bomb is there as well. Dove, no? Sì, si verso, sì. 30 secondi rimasti. Mett'abbasciazza! Non mi curare. La, 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 la. Visione bloccata. Porto, è un altro mid. So esattamente dove sia. Riega, riega, stanno di piccolino. Manca un solo nemico. Stop, barca, paura. No, barca, paura, paura. Stai facendo i miei bici. Ero near a me, sisi. Blocco visione! Blocco visi vedi. Stai facendo. Bastidio! Poi. Bella in là. Secondo me. Sì, ci vanno andata voi. Dai me, dai. Temetemi! ma io fanno quando la ultima manca un solo nemico ho sciottato però dopo venite alla sono da lì sono da lì sono rimasti ma detto di guarda barca quindi è bella si è ci sta sbissato ma porca chi so io abbessate perché che giocatrice però torna in base sicuro è veramente forte ha detto in solo soggetti su personaggio è veramente forte o questo personaggio giocato in solo perché la fare gli ultimi class è fortissimo come volete la barca non so dove l'acqua curati curati che giocatore anche se titolo non mi serve devo scaricarla ragazzi mi piace ma noi non ho le flash perché ho fatto due 18 205 a vedere quando è stare lì fa destra comunque qua stiamo orando sempre guarda mi fatti voglia vincere di game non è basto nemito ucciso ultimo ultimo hai la spike chi è la spike ti brucia uno di fronte a temarti lì in fondo dai dai fastidio blocco visione dai 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 non so sincero è in base a sua martin questa è rimasta preparate che alla focalità vabbè ragazzi però io non ci posso credere che c***o comunque che c***o tutto ha preso tutto tutto il back site non sembrava l'ho flashata sei fuori dai piedi entriamo anche ah gli lascia la bomba no 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 ragazzi ho lasciato a me e fenix ah sei tu fenix è vero però l'ho ucciso quello che è la bestia dei passi visione bloccata vabbè io sul sau fai piazzata temetemi c'è un solo nemico non sei niente ultimo giocatore rimasto ok se andavi di là e questo te lo sc***o qua oh e dai forza ah la mia l'era bella solo eravamoci neri che giocatore ragazzi non me lo chiede ah no è di qua quello vai piazzata visione bloccata Non ci credo Non mi devi fare ridere Non mi devi fare ridere Allora quando ho missato la prima volta Mi sono in c***o Perché non potevo missare Perché appena si è morso con la testa Ho rossicato con gli scherzi Io sento solo scuse Barca Io ti capisco Ma quando muori ti devi mutare Perché se tu urli così io rido Come relicio non riesco più a giocare